Empoli Inter, Lamo Viola, Rossa, Gugli Schitz con il VAR che toglie il gol a Darmian, sempre più mafiotta League, un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video Ci arrendiamo, praticamente ci arrendiamo, diteci voi qual è il regolamento e quale il protocollo e noi lo seguiremo così come stanno facendo Praticamente gli arbitri e gli addetti ai lavori che dovrebbero lavorare per la legalità del campionato, invece stanno solo ed esclusivamente lavorando per la squadra di Don Beppino Come più volte vi abbiamo dimostrato, anche nella partita contro l'Empoli arriva il VAR puntuale che cambia l'inerzia della partita Andiamo a vedere che cosa è successo e andiamo a vedere anche i precedenti per il quale però il VAR non se l'è sentita di intervenire Quindi non se l'è sentita di lasciare la squadra in dieci quando però dall'altra parte c'era la Juventus L'Inter che vince 3-0, l'Inter che dimostra di avere un gioco almeno 10 contro 11 con l'arbitro che telefischia tutti a favore Con l'arbitro che interviene nel momento in cui gli altri stanno partendo in contropiede e con l'arbitro che fischia Non appena ti toccano dimostra di non aver bisogno anche del VAR che aiuta a portare a casa il risultato E in attesa della partita della Juventus che comincerà tra qualche minuto andiamo a parlare di quello che sta succedendo Sì signori, sempre più mafiotta league, sempre più mafiotta league Questo è l'intervento per il quale il numero 2 dell'Empoli è stato espulso Naturalmente c'è stata la strisciata sì, però sappiamo Che Turam sa come fare la sceneggiata e il VAR in questo caso non se l'è sentita di non intervenire Ma andremo a vedere altri episodi ragazzi, sedetevi comodi Perché andiamo a vedere altri episodi che dimostrano come questo campionato è totalmente in balia Della mala vita e delle decisioni prese, sempre per aiutare gli amici degli amici Iscriviti al canale e attiva la campanellina se non l'hai ancora fatto Metti un bel like per supportare questo video, per le immagini che vi vado a far vedere Perché se tutti voi siete d'accordo con me Questo potrebbe anche essere un cartellino rosso Ma l'arbitro dà il giallo, lo vede da vicino Il VAR interviene, siamo tutti d'accordo Allora la domanda è, perché nelle occasioni che vado a farvi vedere a breve Il VAR non se l'è mai sentita di intervenire Allora questo strumento, come vi ho detto tante volte, come vi ho detto dall'inizio Serve solo ed esclusivamente per indirizzare le partite Condividiamolo questo video, aspetta la fine per commentare con il tuo pensiero L'Inter ha dimostrato che avrebbe potuto vincere forse questa partita anche senza l'aiuto del VAR Per quel che riguarda la partita contro la Juventus abbiamo visto delle decisioni a quanto discutibili Dell'arbitro Che è stato veloce a celere nelle decisioni Quando si trattava di dover dare calci di rigore Addirittura interrompere le azioni per quel che riguarda i contropiedi della Juventus Non se l'è sentita invece di andare a rivedere la manata negli Ezebede ricevuta da Ildiz Che ha fatto doppietta, però ricordiamo Bravo, ma non come Zirischi che ha fatto due gol su un rigolo Sappiamo che è più difficile fare quello che ha fatto Zirischi Anche perché se i rigori non te li danno non puoi mai far gol Ma andiamo a vedere perché questo campionato è falsato e ricordatevi di condividerlo Partiamo da qui Questo è il rosso Tutti d'accordo E la domanda è Perché qui il rosso non viene dato Eppure mi hanno detto di strisciata Era Berardi su Bremer, Sassuolo, Juventus Oh ioioioi Oh madonna Così avevano commentato Per poi riuscire ad arrivare pian piano Man mano che lo rivedevano E hanno visto che effettivamente non si è spezzata la tibia di Bremer Beh però lo striscia Dai, in questo caso è strisciato In questo caso è assolutamente da rosso In questo caso è strisciata E il VAR li decide Giallo giusto Giallo giusto La Juventus poi perde quella partita Per non parlare di questa contro il Napoli Ripolitano sempre su Bremer Che diventa ormai una vittima sacrificale E l'arbitro Giustamente Neanche giallo Neanche giallo E lì il VAR Si fa i cazzi Tranquillamente Beatamente Sportivamente Si fa i cazzi Perché ormai lo sappiamo Fatti I tuoi E campi Cent'anni E soprattutto Continuerai ancora a lavorare In questa Mafiotta League Che non è altro che l'evoluzione come i Pokémon Da Marotta League Cioè colui che Indirizzava il campionato Ormai lo sappiamo tutti Lo abbiamo visto 35 episodi On field review a favore Per l'Inter Su 38 partite Alla Mafiotta League A quello che è ancora Molto più grande Di questo presidente Ma molto Ma molto più grande Che prende Magistratura Politica Drangheta Media Giornalisti Televisioni Che prende Presidenti Che prende Tante persone E appunto per questo Sappiamo benissimo Che quando Di mezzo ci sono Troppe personalità Importanti E' meglio chiudere un occhio Perché E' meglio Non tirare fuori il polverone Sarebbero troppi Quelli che La vanno A pagare E quindi Questo qui Non era calcio Di rigore Neanche questo qui Il povero Ildiz Anche in questo caso Non è stato Scusate Non caccio di rigore Volevo dire Cartellino rosso Anche in questo caso Non era Richiamabile Dal VAR L'arbitro Da Il cartellino giallo E diciamo che Non c'è proprio Un regolamento Che vale per tutti Perché Se il limite 50 E poi dicono Ma tu Non è che devi guardare Gli altri Se superano 50 Devi stare Attento tu A stare Tra le regole Quindi Se io vado A 55 Di norma Mi fanno la multa Perché non sono stato Tra le regole Nelle regole Se poi un altro Va a 150 Lo certo lo vede Non è che non lo vede È che però Non se la sente Perché sì La legge deve essere fatta Rispettare Però Giacchido è parente a mia Cioè Tutto posso fare Se non è mio parente Quello che mi dà da mangiare Io posso mai fermarlo Per dargli la multa Che tra le altre cose Non sta andando Proprio a 55 Sta andando a 150 E dovrei ritirargli La patente E allora che cosa facciamo Se sei come me Non te preoccupa Alla vita Basta da chiedertù Ce ne freghiamo Facciamo finta di niente Ci giriamo dall'altra parte E se qualcuno denuncia È un complottista E quindi Le cose devono andare avanti Così Io Non so cosa aspettarmi Per quel che riguarda La partita di questa sera Perché ormai È chiaro È chiaro a tutti Io le immagini Ve le ho portate Dove il VAR interviene Dove il VAR non interviene E pensate che era Uno strumento Che doveva togliere Ogni polemica L'hai capita O te la devo spiegare Che doveva togliere Che doveva togliere Che doveva togliere